Buonasera, buonasera a voi. Allora qualcuno di voi, per carità assolutamente legittimo e ci mancherebbe altro, così si infastidisce un po' che io possa parlare di Sanremo perché ritiene che intanto basta non guardarlo e il problema è risolto. Non è esattamente così, almeno secondo il mio personale punto di vista. Vedete, quando noi siamo di fronte ad una Kermes di una tale importanza, di una tale portata, è chiaro che, voglio dire, conta, ha un valore e soprattutto ha un peso nel nostro paese e controbilanciare rispetto a quello che loro pensano che tutto il paese, come dice Amadeus, è per Sanremo, inneggia Sanremo. Come controaltare, stavo dicendo, invece mettere chi è in disaccordo, chi critica soprattutto quello che è diventato il Festival di Sanremo è invece assai, assai importante perché sempre, guardate, ci vuole la voce critica, dobbiamo far sentire la nostra voce. È fondamentale e importante. Stasera, come da titolo, vi voglio parlare di un pezzo da 90 della canzone italiana, che si è espresso in toni durissimi nei confronti del Festival. Vi leggo alcuni passaggi, esattamente come sono state le sue dichiarazioni. Lui dice, prima era il Festival della canzone, della canzone e basta. Non era neanche importante chi la cantasse, non era lo squalido spettacolo che è adesso. Poi ha rincarato la dose dicendo che una volta le canzoni di M, dice proprio così, di M puntini puntini, non passavano perché c'erano tantissimi filtri e le case discografiche mandavano il miglior prodotto. Adesso arriva di tutto e lui dice anche a un certo punto che in pratica sono i messaggi quelli che contano e c'è chi ha interesse a far passare certe canzoni e a spingere certi cantanti perché il messaggio che loro lancano è un messaggio che chiaramente piace al sistema, piace a queste persone che hanno una strategia ben precisa che abbiamo avuto modo di sottolineare più volte. Ora sicuramente come sempre l'arrogante ormai Amadeus non farà neanche caso, non risponderà neppure a Gino Paoli perché lui ormai si crede davvero Dio in terra. Io ho detto oggi nel video del pomeriggio che ricordo Amadeus dieci anni fa umile, quasi schivo, quasi impaurito quando era in televisione. Adesso un'arroganza unica si crede il padre eterno e si crede di potersene fregare altamente dei giudizi di un pezzo da novanto come Gino Paoli. Vedete fin quando sono io che capisco poco di musica a criticare ha un valore anche se poi come vedete io spesso lo metto sulla comunicazione, sui messaggi che vengono dati e lì insomma un po' di competenza ce l'ho. Più che sul fatto se uno dal punto di vista canoro, dal punto di vista dei testi è bravo o meno bravo, se sa cantare o non sa cantare. Però insomma detto, ripeto, da uno come Gino Paoli voi capite che questo dovrebbe invece far riflettere. E invece non gli importa assolutamente nulla né al direttore della RAI né ad Amadeus né a una certa parte politica, mentre l'altra parte politica che non condivide però sta zitta a consente senza interferire e senza intervenire. E questo è un fatto estremamente grave perché io credo che come è rappresentato, quello che rappresenta Sanremo andrebbe cancellato in questa forma perché non è assolutamente corretto, perché molto spesso come avete visto si fa politica, si presenta uno spettacolo come dice lo stesso Gino Paolo, Gino Paoli che è lo stesso di tutti gli altri talk show, non c'è alcuna differenza, si invita a chiunque l'importante che sia un alineato. Perché voi non vedrete mai cantanti che hanno avuto nel recente passato così il coraggio di esprimere le proprie idee, i propri punti di vista e di dimostrare di non essere alineato con quel sistema rappresentato da Amadeus e suoi amici, del quali fanno parte anche Fiorello, fanno parte altri personaggi, che vediamo bazzicare intorno a Sanremo negli ultimi anni. Quindi un plauso a Gino Paoli che malgrado la sua età ha avuto il coraggio di dire esattamente come stanno le cose, di massacrare giustamente Sanremo e di usare anche parole molto molto dure nei confronti delle canzoni definite di M. Quindi voi capite veramente siamo arrivati ad un limite, quello che io ho sempre pensato, senza averne le competenze, ora lo dice uno che insomma è stato un grande nome della canzone italiana. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.